di averlo risolto. Allora non ci interessa. Un momento, potrebbe essere l'occasione che aspettavo. Conosco qualcuno che per un momento di gloria sarebbe disposto. Beh, la vostra danza della pioggia è stata utile, Lupetti. Ben fatto, Lupetti. Ora avete il distintivo della danza della pioggia. Ecco a voi un cartone che vi stimolerà l'appetito.